Ah che bella giornata per fare una vanilla Che cosa stai dicendo? Non puoi fare la vanilla Adesso devi venire su di me Io sono il pianeta Adesso dovrai sopravvivere per 24 ore Con me Io sono il pianeta SCP Tunisiani avete capito? Cioè praticamente adesso dobbiamo vivere Su questo pianeta per ben 24 ore Cioè pazzesco Scusate per questa scenetta molto cringe Ma cioè è servita Molto Se sentite questi rumori Sono gli uccellini che non so da dove arrivano sinceramente Vabbè magari stanno volando Nei cieli Allora praticamente cosa si fa su questo pianeta? Si sopravvive durante la notte Perché durante la notte arrivano degli SCP E il pianeta che mi da E questo pianeta è piccolissimo come potete vedere È veramente piccolo Sinceramente non so nemmeno come faremo a sopravvivere Su questo pianeta così piccolo Quindi è per questo che ci dobbiamo costruire velocemente una base Io so che però Ho sentito qualcosa Vabbè Io so però Dunisiani che Diciamo In questi pianeti Ci sono sempre dei tesori nascosti sotto Secondo me c'è anche in questo Almeno io lo spero Perché ci serve ovviamente Poi qui ovviamente Facciamo la nostra base State tranquilli Cioè nel senso Non è che Non facciamo la base Anzi Cioè questa qua sarà la nostra base Temporanea per ora E quindi Ma cos'è questa cosa Oh Ho trovato qualcosa qua Esatto Come immaginavo Allora praticamente questo è il tesoro Che praticamente ci Ci permette di sconfiggere Gli SCP che ci danno Perché dunisiani Cioè gli SCP che ci danno Allora sono Cioè è pazzo questo pianeta Però Allora a parte che mi sta malissimo Questa armatura Però è pazzo questo pianeta Perché c'è Mi dà sempre Degli SCP Veramente difficili da Da fare Allora secondo me però Cos'è che dobbiamo fare Dobbiamo prima di tutto Prendere questa cesta Io direi che sia una buona idea E poi cos'è che facciamo Semplicemente Niente Stiamo qua E Questa praticamente è la nostra Casetta Per ora Finché non arriverà la notte E io direi che adesso Dovremmo anche fare un taglio Perché Diciamo che serve Serve siccome adesso Praticamente A parte che non mi hanno dato niente Cioè nel senso Non mi hanno dato Minerali Non mi hanno dato niente Praticamente Questa cosa è orribile Ma vabbè Non gli importa Vedremo di cavarcela anche In questa notte Degli SCP Stiamo attenti Perché la notte arriverà E gli SCP Incomberanno Sulle nostre teste Oh oh Dunisiani È arrivata la notte È arrivata È arrivata E io lo sapevo Allora Stiamo tranquilli Io ovviamente ho La luce magica No quella là che Praticamente mi permette di vedere Perché guardate Quanto sarebbe buio Se no Non so perché Era così tanto buio Forse Avrò qualche problema Io di Visione Può essere Non so Non lo farò mai più Comunque questa cosa Giusto per Ci sono delle mode strane In questo Cioè nel senso Vabbè Dio questa è la statua SCP Oh mio dio No 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 È la statua 173 Praticamente questa qua Ti uccide Se non la guardi Cioè tipo Vabbè tutti la conoscono Ormai no Per chi non la conoscesse Sto parlando Però guardate qua Praticamente questa statua Si può uccidere Cioè nel senso Se la picchi Normalmente non la puoi uccidere Nemmeno con il pugno Non si può fare niente Però Si può fare con il piccone Cioè Se riesci Aspetta Aspetta No 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 Aspettate Non sto riuscendo però No Non sto riuscendo È una Perché non si può Non sto facendo Dunisiani È preoccupante Signor pianeta Richiedo qualche attrezzatura Più potente Per poter distruggere Questa Questa cosa Può darmela per favore Magari nella cesta Ah Avete capito Eh Me l'ha data Oh grazie 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 Mi ha praticamente scambiato il piccone Però è stupido No Dobbiamo Dobbiamo distruggerlo eh Non possiamo Non possiamo buttarlo giù Perché se no non vale È come se È come se barassimo Allora non va bene Perché poi dopo il pianeta si arrabbia Però è davvero difficile da uccidere Fidatevi Perché Non Non si spacca sta cosa Non Veramente Cioè ci mette troppo tempo Ok perfetto Guardate che pericoloso restare qua 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 sopra Diciamo Qua fuori anche Anche perché là poi c'è un Laboratore SCP Chissà che cosa nasconde là dentro Chissà cosa si nasconde Se volete che esprimo anche questo Mondo Magari ditemelo Però non so È molto inquietante Come cosa Adesso però È meglio ritornare velocemente Dentro E aspettare anche il prossimo SCP Io fuori non me ne sto assolutamente Perché chissà che cosa potrebbe succedere Ed è meglio sempre mettere la torocia Prima che arrivi il grue È praticamente una brutta bestia Oh Duniziani Sto sentendo un rumore No 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 Non mi dite che è quello che penso io ero Non me lo No 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 Duniziani duniziani Siamo finiti Siamo finiti Qua siamo finiti Qua siamo finiti Porca miseria No 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 State sentendo Oh mio dio No 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 Questo è lo shy guy Porca miseria Ma chi me l'ha fatto fare Accidenti a me No Duniziani Questo qua ci uccide Dov'è la telekill No 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 Aiuto Allora No 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 Raga E io mi sto cagando addosso Altro che Altro che cagando addosso Cioè io qua mi sto spaventando troppo Allora cerchiamo Di mantenere la calma Adesso dobbiamo uccidere Questo SCP Come abbiamo fatto Con la statua SCP Che era la 173 Questo è il 096 L'SCP 096 Dovrebbe essere lo shy guy Anche da quello Che ho visto Allora E' molto pericoloso però E io cercherò di rimuoverlo con l'attacco secondario Così almeno Almeno è possibile che Non lo so No No Dove credevi di andare? Pensavi di scamparla così semplice Dovrai ancora uccidere l'SCP Forza Oh mio dio ragazzi Questo pianeta è veramente impertinente Non è possibile Allora dobbiamo sconfiggere questo SCP mannaggia a me Adesso però mangerò la mela d'oro Perché sicuramente Nessuno mi potrà fare del male con la mela d'oro Assolutamente nessuno vero? Ah stupido vai via Chi ti vuole Vedete è stato semplice Cioè nel senso se non è attivato Se non è triggerato Se non è arrabbiato E' abbastanza semplice da uccidere con l'atellite Ma se è arrabbiato Mai avvicinarsi Perché non fate in tempo Non fate in tempo a scacciare il mouse Che niente vi uccide Cioè E' veramente difficile da uccidere Adesso chissà se ci sarà un altro SCP oppure no La notte sta finendo Chissà Dunisiani è passato pochissimo E si sente qualcosa qua fuori Io non vorrei dire ma secondo me Mai più farmi questo scherzo No 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 ragazzi Cioè Mi son cagato addosso Allora per fortuna avevamo l'armatura in titanio E la me la doro Però Porca miseria Ma porca miseria Mai più fare una cosa di questo tipo a Dunis Perché se no Dunis Si caga addosso Oh mio dio E' veramente stato davvero difficile Allora secondo me è stato Quello SCP era Il rettile difficile da distruggere Da come mi sembrava Diciamo il suo verso Però Non ne son sicuro Boh magari se l'avete visto meglio Ditemelo voi Cos'era nei commenti E io direi che però Per ora posso finire qua Questo episodio Fatemi sapere se volete altri video Insieme ai miei amici Altri video di questo tipo Insieme ai miei amici Su questi pianetti SCP Che ci metteranno delle sfide Pazzesche Sarà molto difficile da superare Questo Saranno Molto difficile da superare queste sfide E quindi niente Io direi di fermarmi qua Grazie a tutti Grazie a tutti